Cabasci e Ciciretti in rampa di lancio a Frosinone. I due giocatori potrebbero partire titolari nella sfida di domani alle 18.30. Infatti il como è atteso dal Frosinone guidato dal campione del mondo di Germania 2006 Fabio Grosso. L'indicazione è sull'undici che scendere in campo è arrivata da mister Giacomo Gattuso in sede di presentazione del match. Elvis Cabasci è il sostituto naturale di Tommaso Arigoni, squalificato. Amato Ciciretti ad Ascoli ha fatto vedere buone cose e per questo potrebbe essere premiato dal tecnico lariano. Del resto ragionando sul fatto che domenica al Sinigaglia ci sarà il Cosenza, lo stesso Gattuso ha ammesso di dover far ricorso al turnover. I lariani sono reduci dal pari in trasferta, 1-1 contro i marchigiani. Ad Ascoli è arrivato un buon risultato fuori casa contro un'ottima squadra, ha detto l'allenatore del Como. Sul match contro il Frosinone, mister Gattuso ha spiegato, si tratta di una delle poche squadre contro cui non siamo riusciti a reagire. All'andata al Sinigaglia la gara finì infatti 0-2 per la compagine e ospite. Una delle poche formazioni che ci ha creato enormi difficoltà, non siamo stati noi, loro hanno fatto una grandissima partita. Conosciamo le caratteristiche del Frosinone, ha aggiunto i valori individuali e di gruppo, sappiamo che vorrà riscattarsi dopo lo 0-3 di Perugia. Per noi, conclude, sarà una sfida complicata ma l'obiettivo non cambia, ossia scendere in campo per i tre punti.